Sì, questo è un progetto molto importante, la scuola capofila dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Firenze con il professor Alessandro Giorni, dirigente scolastico, che ci ha coinvolti, sia noi nel Val d'Arno, l'Istituto Comprensivo Petrarca e l'Icee Giovanni da San Giovanni, quale scuole partner in questo importante progetto. Si parla di ecologia, si parla di transizione ecologica, in particolare la mia scuola ha lavorato con due classi prime della scuola secondaria, ha lavorato proprio sul consumo idrico quotidiano e sull'inquinamento luminoso, quindi due temi molto importanti perché è fondamentale lavorare con le nuove generazioni su questo tipo di tematiche.